Ok Luigi, buonasera. Buonasera Claudio, buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto a posto, forse veramente. Parto con aprire il bot e poi il casino. Allora, prima di partire ti chiedo, quante sessioni abbiamo fatto insieme e i risultati che per il momento hai avuto con me? Sì, abbiamo fatto la prima sessione e l'abbiamo chiusa con 90€ di profitto sopra, quindi partendo con una cassa da 1000€, quindi 90€ positivo e la seconda con 40€, quindi sono due buone vincite. Partendo con una cassa di 1000€ però... Partendo con una cassa di 1000€, esatto. Perfetto, apri il bot. Sì. Apro lo C-R. Allora, questo lo spostiamo più giù. Quindi, hai detto prima di incominciare la riscazione e lo ripetiamo adesso che sei d'accordo per mettere questo video su YouTube? Sì, assolutamente, sei d'accordissimo, non c'è nessun problema. Perfetto, quindi quando vuoi... Ok, apri il casino. Ovviamente è cassa 1000. Oggi siamo il giorno 3 giugno 2021, lo vediamo da qua sopra, dal casino. Faccio sempre un giro per impostare l'OCR con un numero nero. Sì, se ti resta più comodo sì, come vuoi. Passa il numero, OCR numero... E di solito con una cassa da 1000 partiamo con Bull, che sono 50.000, i piassetti in gioco 6, coppi di gioco 2, dimmi se sbaglio. Sì, parti come l'ultime volte, l'ultime sessioni insieme, insomma. Scaglioni 5, reale pro, stop loss, stop win, stop loss, quindi facciamo 10.000. Anzi, parti, questa volta parti, scaglioni 4, visto che giochiamo con 6 numeri. Ok. Perfetto, quando vuoi possiamo incominciare. Va bene, mettiamo puntata da 50 centesimi. Sì, ovviamente l'ha puntata da 50. Sì, allora è tutto a posto, possiamo partire. Vai, quando te la senti partiamo. Sì, partito, partito. Beh, prima vincita, ce l'abbiamo. Sì, partito, partito. Speriamo che sia una serata sì. Ma sì, dai. Siamo positivi. Allora. Esposizione 84, ok, esposizione 54. Quella è la prima. Quindi non cambiamo nulla. Ok, stiamo tornando al saldo iniziale, vediamo un po'. Sì. Adesso, ovviamente, ecco qua, perfetto. Prima di 20 euro fatte, a raddoppio con un pezzo. Con un euro, scusa. Sì. Se avevamo la montante 5, in quel caso, non andavamo in positivo di così. Ah, no, sì. Sì, sicuramente, a volte mettere una montante un po' troppo alta e non è un vantaggio. Cioè, è più lunga. Quindi più o meno va bene con questo saldo anche la montante 4. Sì, sì, sì. Poi si può sempre modificare in base ai numeri che vuoi mettere in gioco e all'andamento. Però per ora direi che la scelta è adeguata. Abbiamo giocato 47 full. E siamo sul cinquantino di guadagno. Ecco qua. Questo l'avevo preso. Come già ha detto, non è perché abbiamo mille di cast, dobbiamo per forza fare 500 euro. Lì la cosa più sbagliata. Ah, no, sì. Si diventa ludopatici e poi si va a perdere tutto. Magari fai una grande vincita, poi fai una grande perdita e si va, insomma, poi dopo a sballare. Non è che si diventa ludopatici, ma comunque si va in un circolo vizioso del gioco. Sì, che dopo ti porta sempre a volere quel qualcosa in più, in più, in più. E quando c'è la perdita poi non si riesce a gestirla adeguatamente. Esatto. Invece bisogna giocare. Sempre se si vuole giocare, nessuno lo obbliga, con prudenza e pazienza. E giocare quando si ha voglia, perché giocare quando uno magari è stanco, scoglionato, e lo fa tanto per passare il tempo, allora, meglio lasciar perdere. Bene. Eh, vedo che comunque con le puntate da un euro va abbastanza bene, infatti, vedi? Ecco. Va preso. Benissimo. Benissimo. Molto di grande. Buono. tipo ieri sera era una serata adatta a giocare ah hai provato a giocare? sì sì no ma proprio nei primi con le stesse stats con i primi 5 6 puntate andava di giù di brutto quindi ieri era la prima serata quindi mi sono fermato subito visto che comunque ho anche cambiato correndo un negativo un po' di statistiche le ho cambiate però ieri era proprio certo hai fatto bene quello che ti ho spiegato non bisogna per forza andare avanti insisto che se vedi se il giocatore vede che le cose non vanno questo lo vedi con l'esperienza nel giocare giocare ovviamente con prudenza pazienza e la testa perché ci vuole la testa bisogna capire come sono andate le sessioni precedenti esatto e l'andamento delle sessioni i cambiamenti fatti per capire poi se conviene giocare o meno in quella sessione in quella giornata comunque le sessioni che abbiamo fatto non sono state tutte quante facili però alla fine sì no assolutamente abbiamo raggiunto l'obiettivo che come detto non deve essere per forza di arrivare a lo stop win o lo stop loss no basta sì accontentarsi anche 100 70 70 euro cioè non è che le buttiamo allora dico aia perché vedi l'esposizione siamo arrivati a 192 quindi cambiamo come ti ho spiegato metti random negativo quindi facciamo il primo cambiamento e siccome che comunque abbiamo già fatto 200 di esposizione io cambierei anche le bull quindi le metterei a 10.000 beh facciamo un doppio lo stop loss lo mettiamo a 300 400 sì mettilo a 300 intanto ok vai ok abbiamo recuperato bellissimo un'altra un'altra vai guarda un po' hai visto siamo già fatto 100 120 euro che io guarda io la chiuderei qua non andrei avanti perché hai visto due cambiamenti abbiamo risolto tutto il problema tra virgolette perché è un'ottima dimostrazione questa 10 minuti neanche 125 bull giocate quindi comunque siamo diciamo medio alti di fermarci comunque fai un po' il conto totale di quanto hai guadagnato insomma no perché allora questa 120 la prima allora questa 120 la prima che abbiamo fatto 90 quindi siamo già a 2,10 e la è un'altra la seconda sessione abbiamo fatto 40 euro quindi fa il conto sono 250 e non più cioè in massimo 10 minuti niente di così esagerato ecco quindi direi che questi sono profitti che sono dei buoni risultati esattamente dei buoni risultati poi naturalmente conviene giocare sempre su più casino questo si sicuramente giocare su più casino è un vantaggio però io quando faccio le sessioni con voi preferisco non dare obiettivi troppo alti perché un conto che gioco io un conto che giochi te un conto che gioca giocate voi adesso do del voi così perché in generale ovvio ovviamente quando gioco io posso permettere delle sessioni più spinte quando abbiamo visto nei video sessioni da due trecento quattrocento euro tanta roba poi col tempo ci si arriva più o meno perché voglio che imparate perché dovete imparare ecco perché se subito partiamo sparati di fare cinquecento mille euro allora non è quella la mentalità giusta e poi ho avuto in passato degli scontri con delle persone non troppo positivi perché dopo la gente si accanisce e non va bene bisogna giocare con la testa e la pazienza e la calma perché non si possono vincere tutte le sessioni questo deve essere scontato cioè deve essere una cosa sì scontata però ovviamente la percentuale poi di resa è alta è comunque molto molto alta però chiaramente non si possono vincere tutte quante le sessioni perché altrimenti veramente non sarebbero tutti ricchi in caso non sarebbe rovina chiuderebbe sicuro assolutamente però un po' alla volta ci si fa il guadagno esatto va bene Luigi allora facciamo così ci organizziamo anche per una prossima sessione e domani no perché sono impegnato con un'altra persona nei prossimi giorni sì sì ci sentiamo poi su whatsapp dai va bene Luigi è stato un piacere buona serata buona serata buona serata ciao Claudio ciao ciao